buongiorno oggi domenica c'è un sole bellissimo io sto preparando la colazione e danny sta già lavorando ma non riesco a capire ma uno pensa la domenica mattina si rilassa e invece io mi ero piazzata qua sulla mia bella sedia e arrivo a questo qua mi porta due pesi mi fa fare quattro serie bella è stato un piacere ci rivediamo sull'o no sull'o no sull'o no sull'o 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 Buon appetito, oggi pranzo all'aperto Io pronta e per una volta sono io a dover aspettare Dani E niente, passeremo le ore a cercare un parcheggio ad Arona Allora, ci abbiamo messo un'ora a parcheggiare L'abbiamo fatto a botte con uno Che si è fermato al finestrino di Dani Ho detto, oh Santa Maria, adesso già finisce male E vabbè, però ci sono le bancarelle, quindi io sono super felice Oggi è una giornata di code, code infinite Sei pronto per il gelatino? Dove sei? Si sta scendendo tutto Daniele ha detto che mi regala una barca a vela Non lo so Ma sì, i soldi si trovano Ma che bello che sei Indovinate dove siamo andati Sprizzettino Pensavo che sarebbe stato peggio invece 14 euro, dai, un po' come Padova Però con vista Sulla rocca Però c'è tutto questo bello aperitivo Io e Dani stavamo pensando cosa fare stasera E gli ho proposto di andare a vedere un mezzo cartone al cinema Ma ci te l'ho detto io Amico immaginario Mi sembra che si chiami Avevo già visto il trailer E così mi mangio anche i popcorn Dani mi ha preso anche dei caramelli Vediamo che cosa c'è Voglio una liquidizzetta Mentre liquidizzetta No, mezzo buco Vabbè Grazie Dove sai che saremo gli unici al cinema? Chi va al cinema? Ah, guarda le cartone Non c'è nessuno Dani Che bello Beh, qualche bambino sicuramente lo troveremo per tua fortuna E niente mamma che caldo Dai popcorn E cino e vino Io felice Scorte di cibo ne abbiamo Ma in che senso Dani? Il tuo posto è di fianco all'out of service Ma perché? Sono prenotati Da me Comunque tutta la sala libera Noi due ci hanno messo di fianco all'out of service Ovvio Ma com'è possibile che non ci sia nessuno? Solo noi Ho anche l'appoggino, vedi? Dai Oh, non c'è nessuno Dani Sono soli Tutto per noi Eccoci arrivati a casa Io adesso mi strucco Comunque film è molto carino Però In sala solo io e Dani E ci siamo divertiti un sacco Avremmo anche commentato E molto bello Ci stava Non so perché non c'era nessuno a vederlo E Che dire Adesso mi strucco E poi andiamo a letto Dani mi ha appena detto che sono vecchia Perché volevo andare a dormire Ma io questa notte Avrò dormito cinque ore a dir tanto Il signorino ha ronfato Per non so quanto E niente Quindi io vi saluto Poi lui Faccia quello che vuole Grazie per essere stati con me anche oggi Vi invito a lasciare un like a questo video Per supportarmi E come sempre vi lascio qua anche i miei social Vi ricordo di iscrivervi al mio canale E ci vediamo domani Ciao